allora prima di interrompere i lavori per la pausa volevo chiedere a Piero Soldini di intervenire in modo da poter come ultimo e poi ci rivediamo qua eh verso le due e mezza tre uno da precisa alle tre ringrazio moltissimo Transforma per questa opportunità e senza ripetere quello che condivido di questa discussione insomma molte cose sono state già dette vorrei fare alcune considerazioni magari appunto interloquendo con eh gli gli spunti un po' più critici diciamo che ho ascoltato o fino adesso a partire appunto dalla mia esperienza cioè io sono un compagno che sto lavorando con un altro gruppo di compagni e compagne diciamo a un comitato di aderenti individuali al partito della sinistra europea mh è un intento diciamo come dire un po' provocatorio di cambiare anche diciamo le le luoghi e il come dire la militanza diciamo le le relazioni eh le regole anche con le quali ci incontriamo e ehm esprimiamo diciamo una battaglia politica ma se poi questo intento non non incontra diciamo una disponibilità no a questo approccio e a questo cambiamento anche negli interlocutori tra virgolette più sensibili poi in realtà diventa un'altra cosa cioè diventa il legame minimo lo stato minimo di rapporto con la politica dopodiché ci sarà l'indifferenza probabilmente e in realtà siamo a questo livello cioè nel senso che al di là di quello che che diciamo poi in realtà ognuno rimane appunto esattamente chiuso dentro il proprio bossolo eh e custode diciamo non tanto di idee ma di una prassi diciamo tradizionale di interpretare la politica che eh fa fatica a misurarsi diciamo con con eh con l'esterno con quello che si muove all'esterno quindi la difficoltà proprio anche nel momento in cui ci dichiariamo di lavorare per la rete poi comunque una limite proprio a interpretare e un metodo anche di rapporto che sarebbe più funzionale alla rete in realtà diciamo la come dire la vocazione alla coalizione alla cooperazione all'incontro non non c'è mh le coalizioni funzionano e sono coalizioni di potere o nel caso della sinistra in qualche raro caso in cui diventano coalizioni difensive cioè perché poi diciamo c'è una consapevolezza un po' più ampia di massa rispetto a quello che si sta perdendo a quello che si sta rischiando quindi magari in alcune fasi del movimento facifista in alcune fasi anche di diciamo del lotte eh tra virgolette operaie quando si eh si 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 comprende diciamo che si sta sul livello di guardia nasce un'ipotesi di coalizione altrimenti nel lavoro quotidiano diciamo nell'attività militanza quotidiana questa vocazione non c'è non non si registra io non voglio dilungarmi e quindi passo diciamo un esempio concreto che che esattamente per esempio il modo col quale si sta formando questo percorso della lista eh pace terra dignità cioè se 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 io dovesse esprimere un giudizio da questo punto di vista direi che il giudizio è pessimo cioè non funziona un cazzo da questo punto di vista cioè nel nel in come sta eh è proceduto diciamo il lavoro di formazione cioè il il mio comitato Europa Sinistra ha aderito a questo percorso abbiamo fatto eh una decisione formale inviata al servizio pubblico a Santoro alla Valle e poi ad Acerbo e poi a Fratoianni e poi a Bayer ma nessuno ci ha risposto ci ha detto ci ha preso l'atto non sappiamo neanche se l'hanno ricevuta cioè un magari un semplice eh riscontro diciamo di averla ricevuta o dal punto di vista poi diciamo anche della scelta delle candidature cioè a me non mi pare che diciamo che sia all'altezza anche da questo lavoro rispetto a a a a quella che poteva essere la la le potenzialità e le aspettative e non è un caso perché quando si arriva in questi a queste condizioni poi c'è un'accelerazione e ognuno utilizza i metodi sui quali diciamo si sente più eh più preparato insomma che che dopo di che detto questo secondo me eh rispetto a questa esperienza fa premio il fatto che l'intuizione politica è quella diciamo di una di una lista che pone il tema centrale senza il quale questo appuntamento elettorale delle elezioni europee visto diciamo dall'Italia sarebbe un test sulla 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 presidente del consiglio sul sul sulla Meloni sarebbe semplicemente un test e quindi questo alla fine bisogna passare sopra a a tutto il resto a tutti i limiti ecco perché secondo me comunque non sono così eh tragicamente pessimista come come ehm come Franco penso che questa cosa è utile farla ancora prima di sapere quanti voti prende perché comunque questo tema e questa campagna condizionerà anche le altre formazioni e con gli altri partiti diciamo della sinistra più moderata che si misurano con questa campagna elettorale perché ritengo che il tema della pace e della guerra oggi sia il tema più politico cioè nel senso più anticapitalista anche se volete perché il perché come diceva Franco e io aggiungerei anche di più cioè nel senso che non è semplicemente il fatto che il capitalismo in questa fase usa la guerra come magari è accaduto in altre circostanze il problema è che oggi secondo me dopo la dopo la sconfitta cioè dopo che si è uscita dal campo l'ipotesi che il capitalismo si potesse sconfiggere attraverso la rivoluzione diciamo della del proletariato il e quindi il capitalismo ha dilagato diciamo nel pensiero unico oggi il pericolo al capitalismo è altrettanto forte forse ancora più forte per altri fenomeni che forse sono più ehm entropici al capitalismo cioè sono le contraddizioni appunto dell'ambiente è la questione ecologica con quello che si porta dietro le gli stessi elementi diciamo fenomeni pandemici che sono collegati anche diciamo alla alle condizioni di eh insalubri del del pianeta e quindi la eh l'economia di guerra è l'unico strumento col quale il capitalismo realisticamente è in grado di tenere il fronte perché altrimenti non ci riuscirebbe o e quindi a maggior ragione il fronte della sinistra oggi per me deve essere il fronte della pace ed è per questo che secondo me il nostro lavoro anche i limiti diciamo le nostre debolezze comunque non possono che stare su questo fronte grazie grazie Piero eh ci riposiamo un attimo e riprendiamo i lavori alle tre e quindi e anche per chi è in collegamento ehm anche per loro vale adesso chiudo la la rinnovazione la riapriremo più tardi grazie ancora grazie a tutti